Il ladro di Passeggini sfugge all'obbligo di firma e stavolta finisce in carcere. I carabinieri della compagnia di Battipaglia hanno tratto in arresto Michele Santaniello, un pregiudicato battipagliese di 50 anni. I militari dell'arma, guidati dal Maggiore Eric Fasolino, hanno dato esecuzione all'ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Salerno. L'uomo era sottoposto all'obbligo di firma dopo la convalida dell'arresto in flagranza per furto aggravato effettuato la sera dello scorso 24 agosto, quando era stato sorpreso a rubare un passeggino per bambini dal bagagliaio di un Audi A4 a Via Belvedere. Ora Santaniello in carcere a Forni.